Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia e Stragonaria Paganesimo, seconda parte che va in onda dalle ore 19 alle ore 20. Allora, prima di tutto un annuncio, cioè giovedì prossimo non sarò in radio, non sarò in trasmissione, giovedì prossimo la trasmissione la lascerò fare completamente a Francesco, sia la prima che la seconda parte, in quanto Francesco desidera parlare un po' delle conferenze che ci saranno, che verranno organizzate, conferenze di tipo celta, che verranno organizzate qui nella zona di Padova da un nostro amico, pertanto lui desidera presentarle in maniera completa, in maniera efficace e lascerò entrambe le trasmissioni, così inviterà anche Ettore che potrà parlare in maniera ampia, in maniera adeguata di quel tipo di conferenze. Naturalmente è sempre bene che ci siano delle persone che si diano da fare, che cercano di sviluppare comunque il pensiero pagano, perché in ogni caso il pensiero pagano, sia pur nelle sue numerose sfaccettature con cui si presenta nella vita delle persone, chiaramente ha una ricchezza di presentazioni che più riusciamo a presentare, più riusciamo a far circolare e chiaramente meglio è, meglio è per tutti e meglio è anche per l'intero movimento pagano. Per cui chiaramente Francesco, volendo fare, essendoci queste persone che desiderano sviluppare scusate un attimo solo, ci sono queste persone che desiderano sviluppare questi temi e questi argomenti, è bene dare anche a loro lo spazio insomma per riuscire a diffondere quello che è le varie sfaccettature del paganesimo che si presentano in territorio nazionale. Bene, io ne approfitterò allora in questa trasmissione, porterò avanti la quinta parte del discorso sulla percezione e la selezione dei fenomeni percepiti che riguarda la selezione della percezione nella prima infanzia. Di questo vi parlerò questa sera perché è importantissimo che noi riusciamo a comprendere come ciò che noi percepiamo del mondo in realtà è stato selezionato, è stato selezionato attraverso un lungo processo di adattamento soggettivo a quanto dal mondo ci veniva presentato. Bene, vi ricordo che questi pezzi che vi ho fatto sulla selezione della percezione li trovate tutti in internet perché sono stati tutti caricati in internet e è stato caricato in internet anche un altro pezzo di cui io vi ho accennato nella trasmissione della volta scorsa a proposito dell'uso dell'angoscia, cioè vi ho chiesto di ascoltare il testo di Nera Notte mettendovi in una situazione psichica angosciosa e da quella situazione psichica angosciosa ascoltare il testo di Nera Notte. Bene, si tratta di una delle cose importanti diciamo così che c'è in stragoneria perché la ricerca dello stato psichico angoscioso è comunque una situazione che ci permette di lavorare sulle nostre emozioni in funzione dei nostri intenti e in funzione del nostro modo di guardare il mondo. Ve lo farò questo pezzo l'angoscia alle emozioni e sentire il mondo ma ve lo farò molto più avanti però se qualcuno gli interessa se lo può scaricare da internet, lo trova dentro l'indice sulla percezione ai fenomeni percepiti, è un indice che tratta di tutti i temi sulla percezione che abbiamo trattato, cioè l'introduzione al concetto di formazione della percezione, la madre come mondo, la fondazione della percezione nell'età fetale, selezione soggettiva della percezione, quello che vi farò questa sera, selezione della percezione nella prima infanzia, è stato caricato il discorso sull'angoscia ed è stato caricato anche quello che diventerà l'indice dell'empatia e percezione extrasensoriale perché nella percezione extrasensoriale sono coinvolti circa mi sembra 9 o 10 elementi, 9 o 10 elementi, cioè in pratica 9 esattamente. Quando noi parliamo di percezione extrasensoriale o percezione diversa in realtà mettiamo in moto tutta una serie di elementi, tutta una serie di cose che stanno dentro di noi. Ebbene nel lavoro sulla percezione io ho raccolto quelle che sono le varie informazioni scientifiche, le ipotesi di lavoro scientifico che prendono atto sia dell'esistenza di tutta una serie di percezioni diverse da quelle che è la normale percezione della ragione, sia tutta una serie di ricerche, risultati di ricerca che dimostrano come non solo la percezione extrasensoriale sia una realtà ma che dimostrano anche come la percezione extrasensoriale si manifesti. Chiaramente non sono in grado di parlare di tutta la percezione extrasensoriale, però sono convinto che quando ho messo in luce il meccanismo di 9 elementi, 9 elementi singoli che sono in grado di manifestare la percezione extrasensoriale dell'individuo, cioè che la giustificano, che giustificano il fatto che l'individuo coglie elementi diversi dal mondo che ci circonda, praticamente ho giustificato l'intera capacità dei soggetti di percepire cose diverse da quelle che sono descritte dalla ragione. In realtà tutto il lavoro sulla percezione che sto facendo ha questo scopo, cioè ha lo scopo di capire che la percezione non è una cosa creata di immagini e somiglianza, di oppazzo creativo ed efficiente, ma viene costruita dal soggetto in base alle relazioni che il soggetto vive col mondo che lo circonda. Quando noi facciamo questa operazione significa che se noi selezioniamo la percezione rispetto al mondo che ci circonda esiste un'infinita possibilità di selezioni diverse da quelle che noi facciamo. Pertanto basta semplicemente che noi abbiamo la fortuna o la sfortuna di adattare la nostra percezione ad elementi leggermente diversi da quelli che normalmente vengono distribuiti ai neonati, ai feti, ai fanciulli e già abbiamo la fissazione di elementi diversi del mondo, la costruzione di idee diverse del mondo, l'intuizione di cose diverse del mondo è tutta una serie di cose che tutto sommato alla fin fine sono quelle che rendono diverse le persone una dall'altra. Se vediamo le diversità, i diversi tipi di adattamento che le persone incontrano nella loro esistenza. La lezione di questa sera è la selezione della percezione nella prima infanzia e vi ricordo che anche se io raccolgo tutta una serie di articoli scientifici che vanno a dimostrare come il soggetto, come l'individuo si costruisca giorno per giorno nella vita, il mio scopo di questo non è il fatto di questo lavoro, non è il fatto di avere ragione, ma è il fatto che stabilito che questo è il processo di sviluppo, di trasformazione dell'uomo, noi dobbiamo chiederci quali sono i nostri atteggiamenti per favorire la crescita dell'uomo, cioè per favorire la crescita del ragazzo, per favorire la crescita della ragazza, per riuscire a trasmettere al ragazzo qual è la realtà del mondo in cui lui si troverà a vivere e fornirgli i migliori strumenti per affrontarli al meglio. Troppo spesso noi pensiamo, le persone vengono educate a pensare che l'essere umano è creato di maglie insuminate, di opazio e cretino, non curano quella che è la cresta del ragazzo, non presentano i bambini le loro mancanze, i loro sforzi, le loro fatiche nell'affrontare la vita e non presentando questo il ragazzo cresce come una sorta di onnipotenza che dopo sarà preda alla Chiesa Cattolica oppure sarà preda anche dell'Opus Dei, se ci sarà tempo vi leggerò qualche pagina, che effettivamente metteranno in atto delle strategie di manipolazione mentale delle persone, perché vi ricordo che le manipolazioni mentali delle persone sono possibili soltanto su ragazzi indifesi all'interno di strutture chiuse, gabbie, che siano gabbie emozionali, gabbie mentali oppure gabbie fisiche come quelle costruite dalla Chiesa Cattolica. Non è possibile che ci sia una manipolazione mentale in una società aperta o dove la quantità di fenomeni che giungono all'individuo è molto ampia e molto vasta. Bene, affrontiamo allora la selezione della percezione nella prima infanzia. Allora, dal giornale La Repubblica dell'aprile del 2006, leggiamo Lo studio I neonati prematuri sentono il dolore come gli altri Londra I neonati prematuri sentono dolore Uno studio ha infatti dimostrato che purtroppo non sono affatto al riparo da sofferenze come si credeva quando sottoposti alle tante pratiche mediche necessarie nelle terapie intensive neonatali per aiutarli a crescere Lo hanno verificato per la prima volta i ricercatori della Universe College di Londra che hanno misurato risposte di dolore nel cervello di questi neonati e non, come si pensava, semplici reazioni riflesse Lo studio è riportato su The Journal of Neuroscience Questo concetto di dolore, se ve lo ricordate, lo abbiamo trattato esattamente nella prima lezione che abbiamo tenuto rispetto alla formazione della percezione Si trattava... dunque si trattava del... vediamo un attimino di trovarla... 512 mi sembra e trattava esattamente... vediamo un attimino... no, era quella dopo del 1212 e trattava la madre come mondo alla fondazione della percezione nell'età fetale e iniziava il dolore come stimolo La psicologia definisce il dolore come sensazione di sofferenza che si presenta come risposta soggettiva ad uno stimolo avvertito dall'organismo come nocivo o comunque riduttivo del suo benessere Dal punto di vista psicologico il dolore è una delle tonalità emotive fondamentali che accompagnano l'esistenza Questo lo dicemmo il 1212 all'interno della madre come mondo, la fondazione della percezione nell'età fetale Ebbene, riuscire a comprendere che il neonato appena nato sente dolore rispetto alle pratiche di terapia intensiva che gli vengono praticate Significa comprendere che già in quel momento ci sono delle operazioni strategiche da parte del neonato di adattamento soggettivo a quanto percepisce nel mondo La selezione della percezione che è venuta in pancia della madre, ora il nuovo nato la deve misurare col mondo esterno Ed è a questo punto che inseriamo la definizione di percezione psicofisica come definita dal dizionario di psicologia Si cerca di stabilire il rapporto esistente fra uno stimolo definito come fenomeno fisico di intensità misurabile e la risposta che ne consegue data una sensazione di determinate intensità In questo campo si sono definite le soglie inferiori assolute date dall'intensità minima di un segnale fisico che scatena una risposta del soggetto Le soglie superiori assolute al di là delle quali non esiste più una sensazione specifica Le soglie differenziali che stabiliscono quale modificazione in più o in meno un segnale deve subire perché un soggetto lo percepisca come diverso La costruzione di scale psicofisiche per la misurazione delle soglie regolate dalla legge di Fechner per la quale l'intensità di una sensazione soggettiva è proporzionale al logaritmo dell'eccitazione fisico Questa legge, valida per rapporto fra eccitatore fisico e reazione fisiologica del ricettore trova un riscontro approssimativo per quanto concerne il rapporto fra l'intensità dell'eccitatore fisico e la sensazione psicologica e soggettiva che ne consegue Cosa vuol dire tutto questo discorso? Che esiste una banda di dolore dove nella soglia minima, cioè nella parte minima di questa banda è il dolore minimo, cioè la sollecitazione minima alla quale l'individuo reagisce Dopodiché esiste una soglia di dolore talmente grossa, talmente grande dove non esiste più nessuna reazione, cioè l'individuo soggiazza il dolore Scattano alcuni meccanismi nel cervello per cui non esiste più neanche reazione al dolore Ebbene, questa banda stabilisce tutta una serie di livelli di risposta soggettiva al dolore che si subisce Sono degli studi di psicologia che stabiliscono le risposte Chiaramente tutto ciò che ci proviene dal mondo lo possiamo considerare anche all'interno di una banda di dolore Dove cose assolutamente indolori ci portano all'indifferenza rispetto a esse, per cui non reagiamo Mentre invece esistono degli altri fenomeni che comportano del dolore e noi reagiamo Ho il mal di testa, prendo l'aspirina, mi va via il mal di testa Esiste un dolore talmente grosso al quale non si reagisce più Tipo sei assalito da tre orsi bruni che ti stanno sbranando Quel momento cala, prepotente, quello che è l'anestetico completo E viene fermato qualsiasi reazione al dolore e viene sbranato Per cui esiste questa banda fra dolore minimo e dolore massimo all'interno della quale si agisce E là ci sono chiaramente tutti gli studi di psicologia che vanno ad analizzare Ma a noi non ci interessano l'analisi delle soglie del dolore A noi ci interessano semplicemente capire che il soggetto, il bambino prematuro, sente uno stimolo Lo percepisce come doloroso e a quello stimolo reagisce Poi magari saranno delle tale psicologiche, saranno delle modificazioni fisiologiche, emotive Però sappiamo che se il soggetto sente dolore e quel dolore è percepito dal soggetto Sicuramente ci sono dei processi adattativi rispetto al dolore che il soggetto ha subito Questo dobbiamo metterci bene in testa perché è uno dei principi fondamentali della stragonaria L'intensità del fenomeno che funge da stimolo è la quantità di energia con cui il fenomeno si presenta all'attenzione del soggetto Lo stimolo esterno viene definito in psicologia per la sua capacità di agire e modificare un soggetto Ma in questa definizione non si tiene conto della capacità selettiva del soggetto nei confronti del fenomeno Un fenomeno anche carico di una forte intensità energetica può anche essere ignorato dal soggetto Beh vi faccio un esempio E' successa un'inondazione in Indonesia Ha comportato 200 morti Alla maggior parte delle persone non gliene frega assolutamente niente Altre persone invece sono disperate Cioè allo stesso fenomeno, la stessa informazione dà delle reazioni diverse all'interno dei soggetti Un esempio è lo spaventapassero in un campo Il giorno prima spaventa gli uccelli Il secondo giorno gli uccelli lo accettano come parte dell'ambiente Il terzo giorno sono pronti a farvi il nido sopra Se volete l'allarme della viaria Il primo giorno titoli dei tre giornali a tutta pagina Il secondo giorno strage di uccelli in mezzo mondo Dopo quattro mesi Che è sta roba? Il bambino fin dal primo giorno di nascita si trova a dover fronteggiare una quantità fenomenologica immensa che lo travolge Come si difende il bambino? Mediante il sonno Il sonno del neonato è un modo per chiudere la propria percezione ai fenomeni del mondo Disgregare la propria coscienza e la propria attenzione E mettere ordine ai fenomeni che sono arrivati E che hanno modificato la struttura psicofisica durante la veglia La veglia e il sonno del bambino corrispondono un po' al suo mangiare Da sveglio assorbe fenomeni Dorme e digerisce quei fenomeni Si sveglia, mangia fenomeni Dorme e li digerisce In questo processo di digestione Il neonato ogni notte Scompone la propria coscienza e la ricompone Prendendo tutti i fenomeni che ha interiorizzato durante il giorno E quando ricompone la propria coscienza al mattino Inizia a dare un ordine di importanza ai fenomeni Quei fenomeni su cui deve puntare la propria attenzione E quei fenomeni che può ignorare Quei fenomeni che si presentano in maniera da non poter essere ignorati E quei fenomeni che appartengono a un tale sconosciuto Che ritiene non gli possano servire Il processo di disgregazione e riformazione della coscienza Permette al neonato di passare Dalla percezione funzionale all'età fetale Ad una percezione funzionale Al nuovo mondo Il mondo si allontana dalla sua percezione Il contatto materno con l'adattamento al seno Rende meno doloroso questo distacco Quello che fu il processo di selezione della percezione dei fenomeni Che ha messo in atto nella pancia della madre Viene sviluppato e riadattato ulteriormente nei primissimi giorni di vita Cosa caratterizzava il feto della pancia della madre? La percezione empatica e psicoemotiva del proprio ambiente Quali sono i fenomeni che entreranno maggiormente nella formazione della sua conoscenza? Quei fenomeni che si presenteranno con un carico psicoemotivo Che potrà essere identificato dall'esperienza del bambino nella pancia della madre Dal giornale di Donna della Repubblica del settembre del 2003 Ma che cosa gli passa per la mente del neonato? Scienza Fino a pochi anni fa i ricercatori consideravano il cervello di un neonato una tabula rasa Poi plasmata dall'esperienza Le ultime scoperte di genetica e neuroscienza ribaltano la teoria Si viene alla luce con molte capacità programmate E tra le più importanti c'è quella di sognare A nove mesi un bebè è in grado di riconoscere espressioni facciali o verbali Di felicità, tristezza o rabbia E di riprodurle facendole proprie Sa modellare le emozioni su quelle altrui E reagire ai segni di rimprovero o approvazione A un anno guarda l'oggetto indicato da un dito e non il dito Oggi sappiamo che i bambini sanno più di quanto pensavamo fosse possibile Hanno idee sugli altri esseri umani, sugli oggetti e sul mondo Nel momento stesso in cui nascono Nel momento stesso in cui nascono Sono idee piuttosto complesse Sono non soltanto riflessi o reazioni a determinate sensazioni I bambini sono come piccoli scienziati Acquisiscono nuovi dati in continuazione E scartano le teorie che non combaciano con essi Cambia la loro comprensione sulle cause di certi fenomeni E il che porta a domande difficili Come viene rappresentata questa comprensione Nella struttura causale del mondo? E attraverso quali meccanismi di apprendimento Nasce la rappresentazione? La ricerca psicologica e neuronale sui neonati Sta tentando di chiarire la complessità della mente dei neonati Ciò che la stragonaria ha sempre saputo Dalla Repubblica dell'agosto del 2005 La scienza odierna invece Dà ad esso un quadro del tutto diverso Di quello che accade nel cervello e nell'animo dei neonati Padroneggiano emozioni anche molto complesse Come gelosia, simpatia e frustrazione Che un tempo si riteneva imparassero verso i due o tre anni I neonati di quattro mesi hanno già capacità avanzate di deduzione Nonché l'abilità di decifrare dei disegni anche complessi Hanno una paletta visiva piena di sfumature Che permette loro di notare anche le più piccole differenze Specialmente nei volti Una dote che gli adulti e i bambini più grandi perdono Una delle prime emozioni che provano i bambini anche piccolissimi E' l'empatia Anzi, forse nel cervello dei neonati Già esiste la capacità di preoccuparsi per gli altri Se si sistema un neonato accanto ad un altro che sta piangendo Con ogni probabilità finirà per piangere Secondo Martin Hoffman Docente di psicologia all'Università di New York Sin dalla nascita vi è qualche primigenia Forma di empatia Parte dell'empatia potrebbe essere il prodotto di un'altra precoce abilità dei neonati La capacità di discernere le emozioni dalle espressioni del viso delle persone che li circondano E questi sono risultati di alcuni studi L'empatia in realtà è un potere di interazione soggettiva con il mondo Sviluppato nella pancia della madre Ed è il primo strumento che il bambino usa per costruire le relazioni con il mondo La capacità empatica seleziona la percezione dei fenomeni che provengono dal mondo E li seleziona in base al carico emotivo di cui quei fenomeni sono portatori I volti, i suoni delle parole, i sussurri del corpo materno Sono tutti fenomeni che portano emozioni E queste emozioni interagiscono con i bisogni del bambino Che sono a loro volta espressioni di tensioni emotive Dove si verifica fra i soggetti un incontro di emozioni Il fenomeno trasmesso si fissa Quando il fenomeno porta emozioni che incontrano le emozioni soggettive del neonato Agendo sui suoi bisogni, le sue necessità Il fenomeno si fissa Si fissa prima per l'incontro emotivo E poi il neonato ne identifica la forma capace di agire sui suoi bisogni emotivi Crescendo, poi, il bambino Identifica l'aspetto razionale e la forma di cui il fenomeno è manifestazione Il fenomeno come forma entra nella percezione del neonato in un secondo tempo Prima il fenomeno viene percepito attraverso la capacità empatica del neonato Con cui interagisce con il mondo psico emotivo che lo circonda Inizialmente c'è il tentativo soggettivo da parte del bambino Di ricercare, una volta nato, la riproduzione del nuovo mondo dell'utero materno Nel nuovo mondo il neonato cerca ciò che già conosce E fissa l'attenzione su ciò che lo rimanda a sensazioni che ha già vissuto I neonati scorgono le emozioni espresse dall'espressione del viso delle persone Le espressioni vengono associate alle sensazioni che hanno provato nell'utero In quanto le espressioni del viso sono portatrici di emozioni di chi li guarda A mano a mano che i neonati crescono L'espressione del viso assume un significato a sé Separato dall'emozione che comunica È in atto un processo di separazione del bambino Dalla primitiva forma di interazione fra sé e il mondo forgiata nell'utero E i sensi stanno prendendo il sopravvento nel mediare le relazioni dell'apparato emotivo con il mondo La percezione del neonato viene educata a selezionare i fenomeni del mondo Questi esistono solo se sono portatori di un carico emotivo Ed interagiscono con i bisogni del neonato che attraverso essi espone al mondo le sue emozioni In questa fase il neonato seleziona l'effetto finale O a cui corrisponde mediante l'azione prima e mediante la descrizione poi Del fenomeno che percepisce Data una percezione di fenomeni che generano nel neonato delle necessità e dei bisogni Tale percezione viene riassunta nell'elemento più semplice che una volta manifestato Garantisce la soddisfazione delle necessità e del bisogno Se nella pancia della madre l'immenso per il feto era la madre stessa Ora l'immenso è uno sconfinato che percepisce attraverso un distacco Che i suoi sensi e le sue percezioni devono comprendere La fondazione della percezione del neonato è una mediazione funzionale Fra ciò che è stato, crescendo nella pancia della madre E ciò che gli viene trasmesso Nel modo in cui gli viene trasmesso dal mondo in cui nasce E per quello che il mondo in cui nasce li presenta Le recenti ricerche neurologiche hanno messo in luce come i sensi non siano solo 5 Ma i neurologi, seguendo le connessioni nervose e i collegamenti neuronali Hanno scomposto i sensi in una serie di sottosensi Che ricomponendosi fra di loro attraverso un infinito numero di variabili Dimostrano come le possibili percezioni del mondo di un soggetto Siano pressoché illimitate E questo senza tener conto dell'elaborazione che il soggetto ne fa di quanto percepisce Allora proviamo un attimino adesso a capire come la scienza moderna Sta imparando che sia la capacità sensoria di percezione degli individui E vi leggo dall'Espresso del maggio del 2005 Un articolo a firma di Paola Emilia Cicerone Si intitola Un uomo da 21 sensi 5 I neurologi scommettono, sono molto di più Ecco perché, seguendo gli stimoli che vanno dagli organi del cervello Che non ci si fermi a 5 è sicuro Forse sono una ventina C'è chi dice molti di più Perché l'antico schema di derivazione aristotelica Che limita appunto a 5 il numero dei sensi con cui esploriamo il mondo esterno Vista, udito, gusto, tato, olfatto È tramontato per sempre Per molti scienziati il numero giusto è 21 Come ci si arriva? Non si parla più di vista Perché la percezione della luce è distinta da quella del colore Mentre il gusto si divide in quattro Riconoscendo autonomia ai quattro gusti fondamentali Dolce, salato, acido e amaro Con l'eccezione dell'umami Il gusto di glutammato tipico della cucina orientale Che è preso in considerazione solo da alcuni studi Se il tatto resta un senso a sé Gli si affianca altri sensi collegati ma autonomi Come la percezione del dolore, del caldo e del freddo Portando così a 12 i 5 tradizionali sensi Per arrivare a 12 basta aggiungere il senso dell'equilibrio D'altronde non l'abbiamo sempre chiamato così E la propriocezione che ci consente di valutare Anche ad occhi chiusi attraverso una serie di recettori Posti nei muscoli e nelle articolazioni La nostra posizione nello spazio e i nostri movimenti Anche se in questo caso si parla più specificatamente Di cinestesia E poi sensori interni che permettono al nostro organismo Anche se non ne siamo sempre coscienti Di monitorare parametri biologici Come la pressione sanguigna L'ossigeno presente nel sangue L'acidità del liquido cerebro spinale E la presenza di aria nei polmoni Ma anche valori specifici relativi al contenuto di glucosio nel sangue E alla pressione osmotica del plasma Che siamo abituati a percepire Più banalmente come fame e sete Complicato? Neanche troppo Se si pensa che i ricercatori più radicali Arrivano ad elencare una trentina di sensi Dando autonomia alla percezione di alcuni colori Come rosso, blu e verde E distinguendo fra le diverse modalità tattili E i diversi tipi di movimento E c'è anche chi sostiene Che ciascun tipo di recettore olfattivo Ce ne sono circa due miglia Dio origine ad un senso a sé Persino il sesto senso Per anni una fola da creduloni È stato riabilitato Secondo uno studio realizzato Dal Washington University di St. Louis E pubblicato su Science L'elaborazione inconscia di informazioni Che ci aiuta a prendere decisioni Apparentemente immotivate Ma corrette Attiverebbe una specifica area del cervello La corteccia cingolata anteriore Oggi gli specialisti Non studiano i singoli sensi Ma le loro articolazioni Partendo dalla natura chimica, meccanica E luminosa dello stimolo O dai ricettori cerebrali interessati La base è comune È sempre un'area cerebrale ben precisa Il talamo Che riceve tutte le informazioni Dei ricettori E le trasmette alla corteccia cerebrale primaria E qui E da qui Alla corteccia secondaria Spiega Raffaella Ruminati Responsabile del Dipartimento Di Neuroscienze Cognitive Della Sissa Scuola Internazionale Di Studi Superiori Avanzati Di Trieste E' qui che il percorso Si articola In aree specializzate Scusate un attimo Si articola in aree specializzate In cui diverse popolazioni di neuroni Si occupano di aspetti diversi E questo è l'articolo E questo per parlare di come un soggetto percepisce il mondo Poi quando andiamo ad affermare Quanto un soggetto deve essere lezionale del mondo E agire in esso Scopriamo Che Da di donna La Repubblica Del maggio del 2005 Ci viene detto Neuroscienze Nuove ricerche Indagano sul ruolo dell'inconscio Nelle decisioni di ogni giorno Dallo shopping Al partner giusto Nelle nostre scelte C'è molto di più di quanto pensiamo Secondo i neuroscienziati Siamo consapevoli solo del 5% Della nostra attività cognitiva Ed è per questo Che la maggior parte Delle nostre decisioni Emozioni e azioni Dipende per il 95% Della corteccia cerebrale Che va al di là Della nostra coscienza Pertanto Se voi prendete Soltanto i risultati Di questi due articoli Capirete bene Che la capacità di percepire il mondo Mediante i sensi Che noi abbiamo È estremamente variegata E quando questo variegamento Cioè questa diversificazione Si combina anche in maniera diversa Voi capite che solo la meccanica Della percezione del mondo È infinitamente più complessa Di quanto si era abituati a conoscere Se poi a questo Ci mettete le scelte soggettive Di percezione del mondo Voi capite perché le persone Sono tutte diverse l'una dall'altra Per tutto il tanto Se volete convincere una persona Inutile che fate un miliardo di discorsi Non la convincete manco per niente Perché la sua capacità Di selezione del mondo Sua capacità di percezione delle cose Va a resentare Tutta una serie di strutture Psicomotive Completamente diverse da voi Noi Spesso Troppo spesso Non abbiamo il controllo razionale Di quello che facciamo Obbediamo a stimoli profondi Che si presentano alla coscienza E guidano le nostre decisioni Mentre percepiamo E giudichiamo il mondo Seguendo stimoli Di desiderio Che abbiamo selezionato In anni Dimenticati Tutta questa operazione Di selezione Della percezione Il bambino La fa nei primissimi Mesi di vita Fin dal primo istante In cui esce Dalla vagina Di sua madre La scienza neuronale E la psicologia Stabiliscono collegamenti E connessioni Sia fisiche Che psichiche Fra le azioni Che facciamo E l'accensione Di aree del cervello In cui avviene La decisione Si stabilisce Che cosa si attiva Quando percepiamo Aspetti del mondo Ma la scienza Non è Almeno per ora Capace di seguire Le scelte Soggettive Per cui Un tipo di percezione Viene fissata Nell'individuo Anziché Un altro tipo Di percezione Leggermente diversa La scienza Non è in grado Di vedere I processi Adattativi Messi in atto Dall'individuo Nel corso degli anni E che l'individuo Concretizza Nelle sue idee Sul mondo Nelle sue scelte Nelle sue decisioni Nelle sue predilezioni Sta di fatto Che si assiste A tutta una serie Di scelte soggettive Da parte del neonato Il cui scopo È fissare La propria attenzione Su una gamma Di fenomeni Che entrano Nella sua percezione E che poi Vengono ulteriormente Selezionati Per costruire La sua coscienza Un sistema educativo Deve aver cura Di rivolgere Il neonato Input Informazioni Fenomeni Capaci di stimolare In maniera A lui ottimale Lo sviluppo Della propria percezione E l'uso opportuno Della propria Attenzione Questa necessità È sempre stata La base Della ricerca Della moderna pedagogia Il cui scopo Era atteso Ad assicurare Alla società civile Individui più coscienti Più ricchi di stimoli Più consapevoli Al fine di arricchire La società stessa L'errore Di tutti i sistemi Pedagogici Fu quello Di considerare Il bambino Soggetto diverso Separato Dall'adulto E dalla società Un soggetto Su cui agire Per ottenere Un risultato Senza considerare Che il soggetto Ha una capacità Personale Di elaborazione Così l'educatore Pensa Che facendo Questa o quella cosa Riesce ad ottenere Un risultato Se voi vi leggete Alcuni libri Di pedagogia I libri di pedagogia Vi danno Sempre Dei suggerimenti Vi dicono sempre Come dovete Comportarvi Nei confronti Del bambino Per ottenere Delle cose Bene Se alcune cose Sono sagge Rispetto a Delle demenzialità Che magari Erano usate Nei sistemi Educativi Delle generazioni Precedenti In ogni caso Voi non Noterete mai Il risultato Che volete A meno che Non siate in grado Di interagire Dal punto di vista Emotivo Con il bambino Pertanto Qualunque cosa Buona O meno buona Qualunque atteggiamento Voi assumiate Non riuscirete mai A raggiungere I vostri intenti A meno che Non fondiate Col bambino Le vostre emozioni Lo rendete Partecipe Alle vostre emozioni E questo Nessun cristiano Sarà mai in grado Di farlo Stuprare i bambini Per costringerli All'interno Di comportamenti Fissi Questo magari Forse Se c'è qualche minuto Lo vedremo dopo Invece Il soggetto Che riceve Quell'azione O quella cosa Sotto forma di fenomeno Così L'educatore Pensa Che facendo Questo O quella cosa Riesce ad ottenere Un risultato Invece Il soggetto Che riceve Quell'azione O quella cosa Sotto forma di fenomeno Le inserisce In un insieme Soggettivo Che produce Risposte Diverse Dalle attese Il bambino Diventa L'oggetto Del discutere Di ogni sistema Pedagogico E questo fu L'errore E la base Del fallimento Di ogni sistema Pedagogico Non che non venisse Di volta in volta Migliorati Degli aspetti Dell'educazione Del bambino Ma il risultato Non soddisfaceva Mai le premesse Dalle quali La strategia Pedagogica Prendeva il via Il motivo E' semplice Non si può intervenire Nella formazione Della percezione Del bambino Agendo Sul bambino Stesso Questo perché L'adulto Non è più in grado Di valutare La carica emotiva Della sua azione Nei confronti Del bambino E il bambino Darà una lettura Soggettiva Dell'azione Dell'adulto Partendo Da categorie Di valutazione Che l'adulto Ha dimenticato Quando un adulto Manda un segnale Al bambino Si illude Che il bambino Interpreti Il segnale Con le sue stesse Intenzioni E con il suo stesso Significato Dalla Repubblica Del marzo Del 2003 Da bambini timidi Ad adulti ansiosi Tutta colpa Di un malinteso L'articolo E' Di Carlo Brambilla Io però Ho riprodotto Solo il pezzo Che mi interessa Milano Per i bambini Più timidi Candidati ad essere Adulti e ansiosi C'è una strana espressione Negli occhi Di chi li guarda Qualche cosa Di indecifrabile Nel volto Che fa Loro sbagliare Giudizia Sulle reali Interpretazioni Degli altri Scambiare uno Stato d'animo Per un altro E rende Difficili Qualche volta Impossibile Normali relazioni Umane Fate anche Di linguaggi Non verbali E' lì Che si nasconde Il segreto Della timidezza E' un malinteso Una difficoltà Psicologica Che ha una parziale Base genetica E neurofunzionale Lo ha scoperto Un gruppo di ricercatori Dell'Università Vita Salute San Raffaele Coordinato Dallo psicologo Clinico Marco Battaglia Dopo un lavoro Durato tre anni Su un campione Di 150 Scolari italiani Per molto tempo Gli psicologi clinici Hanno ipotizzato Che il mondo interiore Delle persone Afflitte Da ansia sociale Dipendesse Da aspettative Negate Rispetto al giudizio Degli altri Il risultato Di questo studio Suggerisce invece Che vi possa essere Una difficoltà Nell'elaborazione Della comunicazione Interpersonale Psicoterapie Mirate Che aiutino I bambini Più timidi Ad interpretare Correttamente L'espressione Del volto Di chi li circonda Ridiscutere I significati Del linguaggio Non verbali E elaborare Le istanze Affettive E farsi più coraggio Di questo Ne avevo già parlato In una trasmissione Tempo fa E vi ho ricordato Che noi abbiamo Una capacità Di manifestare Le nostre emozioni Specialmente Rispetto ai bambini Piccoli Attraverso gesti Attraverso Linguaggi corporei Attraverso anche Tutta quella che è La carica emotiva Che i nostri pensieri Le nostre parole Il nostro timbro Di voce Veicola Verso il bambino Che abbiamo acquisito Quando eravamo Nella savana Quando eravamo In altre condizioni Quando vivevamo All'interno Della natura Ebbene I nostri segnali emotivi Che noi Veicoliamo Rispetto al bambino Attraverso le parole Le espressioni del volto Le espressioni Corporee Sono segnali Che abbiamo imparato Fin da Da quando Viviamo nella savana Oggi come oggi Che non esiste più Quella tipologia Di pericoli Ma ne esistono altri Noi non abbiamo ancora Elaborato Un linguaggio corporee Un linguaggio Non verbale Per trasmettere In maniera diversa Quei segnali Pertanto Spesso Ci rivolgiamo Al bambino Con degli azioni Con dei gesti Con dei Timbri di voce Con un trasferimento emotivo Che è assolutamente Spropositato Rispetto al messaggio Verbale Al messaggio razionale Che invece Vogliamo veicolare Pertanto Il bambino piccolissimo Che non conosce Il linguaggio Verbale Ha un linguaggio Percepisce Un segnale emotivo E un segnale Non verbale Atroce Fortissimo Mentre invece Vogliamo dire Ma perché Hai spanto La pappa E lui Percepisce Come un segnale Di morte Ed è questo Che costruisce Anche una Dislessia Especialmente Nell'adulto Fra ciò Che vorrebbe Trasmettere E ciò Che invece Trasmette Andiamo avanti Il problema Dei segnali Non verbali È molto più complesso Non si tratta Solo di come Viene lanciato Il segnale Non verbale Ma del carico emotivo Che il segnale Porta rispetto Alle emozioni Che attraversano Il bambino In quel momento I messaggi non verbali Sono importanti Per i soggetti Di questa ricerca Che hanno Fra i 7 E i 9 anni Ma sono fondamentali Rispetto ai messaggi Verbali Per i bambini Neonati Le recenti scoperte Hanno messo in luce Come siamo Siano importanti Quelli che vengono Definiti Neuroni specchio Dalla Repubblica Del dicembre Del 2005 Scoperto il segreto Delle emozioni Ecco il neurone specchio Così Condividiamo I sentimenti Il meccanismo Della simulazione Che scatta Nel cervello Della scimmia Era determinato A un gruppo Di cellule nervose Cui viene assegnato Il nome Di neuroni specchio All'inizio Prosegue Gallese Pensavamo Che la loro attivazione Dipendesse Dall'osservazione Di un movimento Altrui Poi Passando agli studi Sull'uomo Abbiamo capito Che il meccanismo Riguardava anche Le emozioni E le sensazioni Tattili Provati dagli altri Ci basta Percepire Un sentimento Su un volto O accorgerci Che la mano Di un altro Viene sfiorata Per simulare Per simulare Una situazione Corrispondente All'interno Del nostro cervello Sono i neuroni Specchio Che si attivano Esattamente Nelle stesse Aree cerebrali Di chi vive L'esperienza In prima persona Questo meccanismo È comune A tutti gli individui Sia pure Con un'intensità Che varia Da persona a persona Ma nei dieci Bambini autistici Studiati da Mirella Da Pretto Con la tecnica Della risonanza Magnetica I neuroni specchio Si sono dimostrati Pigri Ben oltre I limiti Della normalità Questo sostiene La psichiatra americana Potrebbe spiegare Il perché Del deficit sociale Che caratterizza Gli autistici I nostri risultati Insieme a quelli Ottenuti in precedenza Da altri ricercatori Ci portano a descrivere La malattia Come un cattivo Funzionamento Di neuroni specchio Segnale esterno Comunicazione Non verbale Assimilazione Del segnale esterno Interpretazione Suggettiva Del segnale Risposta Di adattamento Al segnale esterno L'adulto Che lancia Un segnale Verbale Al neonato Il neonato Assimila La parte emozionale Del segnale Ricependo Suggettivamente Un significato Estraneo Alla verbalizzazione Fatta dall'adulto Il bambino Impara La comunicazione Verbale Associandola Ad una comunicazione Emotiva Estranea Alle intenzioni Della verbalizzazione Cosa comunica L'adulto Che ha perso La memoria Della comunicazione Non verbale E ha perso La memoria Della trasmissione Delle emozioni Sia attraverso I suoni Che lo sguardo Il tatto E le espressioni Mimiche Come può Il bambino Essere consapevole Che l'adulto È ignorante Nella comunicazione Non verbale Unica comunicazione Che egli conosce Avendone imparato I rudimenti Nella pancia Della madre Spesso Le pretese Dell'adulto Che il bambino Impari La comunicazione Verbale Mi sembrano Come quella Dell'indios Che rifaccia Colombo A Cristoforo Colombo Che io ho imparato La tua lingua Ma tu non hai imparato La mia L'apprendimento Della percezione Infantile Che ho tentato Di illustrare Passa per un notevole Numero di vie Diverse Della comunicazione Della comunicazione Verbale E tutte impregnate Di un carico emotivo L'individuo Adulto Quando analizza Continua a vedere Delle situazioni Statiche Ma non riesce A cogliere I processi Di mutamento Vede certamente La differenza Cerebrale Del neonato Di pochi giorni Dal bambino Di un anno Ma non coglie Le forze intime Del mutamento Sia come adattamento Soggettivo Sia come segnali Che giungono al bambino E le interpretazioni Del bambino Permettere in atto Quelli e solo Quegli adattamenti In questa situazione Il bambino Inizierà a perdere La comunicazione emotiva In quanto Non è più Direttamente funzionale E la comunicazione Verbale Inizia ad invadere Tutte le sue aree Del pensiero La comunicazione emotiva Continuerà Comunque A guidare le sue azioni Le sue scelte Amore e passioni Ricadranno più Nella sfera delle emozioni Che non nel campo Della razionalità Avremo in questo modo Un individuo Che dovrà coprire La sua capacità Di percezione emotiva Mediante la percezione Della ragione E tradurre Ogni percezione emotiva In comunicazione verbale Spiegarla E giustificarla È nella nascita E nei primi mesi di vita Che il bambino Inizia a formare Il subconscio Quell'area In cui le emozioni Le relazioni emozionali Che l'individuo Ha avuto con il mondo Si accumulano Frenando la crescita Problemi psicosomatici O non ostacolando La crescita Problemi psicosomatici Molto ridotti O problemi Psicosomatici Positivi E questo È tutto Per quanto riguarda La selezione Della percezione Nella prima infanzia Mio scopo Era quello Di fornirvi Un numero Sufficiente Di elementi Per farvi comprendere Come il bambino Che cresce Nel bambino Che cresce Si è nata Una grande guerra Di formazione Di se stesso Per affrontare Il mondo In cui è nato E in cui Si sta sviluppando Se io sono riuscito A farvi comprendere Questo Le persone Guardano al bambino In maniera diversa Ma io so anche Che un miliardo Di parole Che io posso Proferire Dai microfoni Di questa radio Non spostano Una virgola Di quelle che sono Le certezze Delle persone Però nonostante Questo Io continuerò Dai microfoni Di questa radio Finché potrò A cercare Di farvi capire Come funziona Il mondo E quali sono I meccanismi Che regolano La vita Nel mondo Bene Vi ricordo sempre Che questi pezzi Li trovate in internet Nel programma Sulla percezione Cioè negli indici Sulla percezione All'interno Del crogiolo Dello stragone Perché Se è fondamentale Per capire Il crogiolo Dello stragone Perché Io ho scritto Il crogiolo Dello stragone Ma Riuscire anche A capire Quali sono I meccanismi Fisiologici Emotivi Psichici Per cui Il crogiolo Dello stragone Funziona Rispetto a Quell'aberrazione Infame Che è il credere Cristiano È il mio compito Dimostrarlo Cioè Non basta Far la stragonaria È necessario Anche Riuscire a comunicare I meccanismi Per cui la stragonaria È una cosa reale 049-700-700 E 049-700-838 Questo è Il Pronto Ciao Ciao Che è sempre Andrà avanti Claudio Ti dici Perché è molto importante È molto importante Dettagliato Proprio Mi ti ascolto Guarda ogni sera Questa tematica Qua Veramente Che Tiro fuori Tutti i miei libri Qui Naturalmente Mi tocca Arrabantarsi Tutto Perché Vuoi qualcosa Però Però Scoltare Scoltare Tanto Disilineare Se capisce Perché Non sei Non sei capisce Non sei astruso Insomma Né 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 Spero Nessere Più chiaro Possibile Sai Per quello Che posso Fare E dopo È molto Importante Perché Se parte Sempre Dalla Prenatale Cioè Il bambino Parte Da dentro La madre Tutto Tutto Quanto Parte Da dentro Dopo Si sviluppa In modo Esteriore Dipende Dipende Sempre Da Quello Che trova Fuori Esatto Esatto E Ha Il punto Cruciale Il punto Critico Certo Di Di Lavorare Di manovrare E Lavorare Sugli adulti Egli adulti Che devono Mettersi a posto Non ci viene da fare Esatto Ok Ivano Grazie Buona serata Auguri Buon anno E ciao Ciao Pronto? Sì Salve Salve Sono Sono in macchina Ho trovato Per caso Questa radio Qui Sì Ho trovato Un argomento Interessantissimo Su Ok Che è la nascita Dei bambini I neuroni Specchio E Un carimento Sui neuroni Specchio E ho dato Un esame Di neurologia Allora Ne sai più di me Non ho mai sentito Parlare Mi sembra Una cosa Interessante Quella Di neuroni Specchio È una delle ultime Scoperte Che è stata fatta Da pochi anni Cioè Io ho gli articoli Con cui sono stati Pubblicati Però Se tu hai fatto Un esame Di neurologia Ne sai sicuramente Più di me Insomma No Ti chiedevo Se non ho mai sentito Parlare Non l'hai mai sentito Parlare No Non l'hai mai sentito Parlare Comunque Di biografia Qua Allora Tu trovi Se vuoi Prenderti nota Dalla Repubblica Del 16 Dicembre 2005 E c'è un articolo È un articolo Divulgativo Che prende L'articolo Da Non so se Scienze O qualcos'altro Ok Perché Al limite Professor Gallese Dovresti rivolgerti Ehi ai ai Sento male in macchina Però Senti male È un brutto ritorno E poi Anche La professione Di trattaccia E paganesimo Scusa Ti sento malissimo Scusa Sono in macchina Ci rimane Sì Adesso sento un po' meglio Anche un'altra roba Sul titolo Della trasmissione Della trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo E Usi internet Usi internet Usi internet Sì sì Ecco Tutti questi pezzi Sono tutti in internet Se tu fai una ricerca Sul crozio Dello stragone Sul crozio Del stragone Sì E li trovi dentro Sì sì C'è l'indice Su tutti i pezzi Fatti e trattati Sulla percezione C'è la formazione E la percezione Dell'uomo Gli argomenti Sono vari Spaziano Da Nella terra Devo metterli giù Adesso Sai Devo metterli giù Ok Ciao Devo metterli giù Anche perché ho chiuso Ciò stefano Giustamente Vi ricordo Che tutti questi pezzi Che io vi ho letto Fin dall'inizio Della percezione Nell'età fetale Percezione Adesso Prima infanzia Poi vi parlerò Della percezione Della formazione Della percezione Della età Diciamo così Del giovane Vi trovate tutti In internet Anche il discorso Dell'uso Della angoscia Per affrontare le cose Vi ripeto L'ho caricato in internet Se volete andare Più speditamente Trovate i pezzi Vi trovate all'interno Del crogiolo Dello stregone In federazionepagana.it www.federazionepagana.it Oppure Crogiolo stregone In google E trovate i pezzi Ciao a tutti Vi do appuntamento Per giovedì prossimo Dove io non sarò In trasmissione Ci sarà Francesco Che presenterà Delle trasmissioni Ciao ciao Vado immediatamente Con Il nostro presidente Buona giornata A tutti Mi parla Paolo Il presidente Di questa Cooperativa Di radiografia